Allora, io mi chiamo Ennio Appetecchia, sono nato a Ferentino il 19-1927, però poi mi hanno portato a Roma che avevo 12 giorni. La prima abitazione a via San Giovanni Laterano, poi Piazza Duscolo e poi via Portuense. I miei genitori, mio padre era ferroviere, macchinista, mia madre era casalinga, eravamo quattro fratelli, mi piaceva fare figlio della lupa, Balilla, Balilla Moschettiere, avanguardista a San Giovanni. Andavamo a via Lusitania dove è nato Sotti. Io andavo a scuola, c'era la scuola e il campo sportivo, la gille c'era. Andavo a scuola lì e poi passava la gille per fare istruzione con i vecchi moschetti, con le marce, presentate arme, tutta questa roba qui. Poi è successo il 25 luglio quando è caduto il fascio, mi hanno menato perché io stavo indivisa da avanguardista. Poi è finito tutto, fino a che c'è stato l'arruolamento, ho sentito dire che c'era l'arruolamento nelle truppe ma non conoscevo né decima masse, sono andato a Piazza Bainzizia a avrigolarmi e mi rodeva. Io subito volevo partire volontario, quando ho saputo che c'era ancora, che si era formata la Repubblica, perché io mi sento troppo italiano, non volevo né inglesi, specialmente né americani né niente. Poi i bombardamenti che facevano. Io mi ricordo il bombardamento di San Lorenzo, perché mio padre in ferrovia stava al deposito locomotive San Lorenzo. Come è finito il bombardamento sono corso subito lì in bicicletta, invece non hanno preso per niente il deposito, hanno preso il cimitero, ho visto i morti, i cavalli, perché c'erano i chiaretti che portarono la calce, erano i vecchi chiaretti con il cavallo morti, gente morta. E' stato i primi morti che ho visto. Dopo non visti troppi. Prima ci hanno scartato perché erano troppo giovani, poi a 17 anni ci hanno cominciato a prendere. E lì ci hanno scelto, erano tanti. Il mio padre fuori che mi voleva riportare a casa. Io ho detto a papà, avevo 16 anni e mezzo quasi. E mi hanno portato alla Spezia, a Creserma San Bartolomeo. E da lì ci hanno aggregati al battaglione Barbarico. E col Barbarico ci hanno spostati a Campo di Canne, con le mitragliatrici Breta 37. Questo è il coso da Rolamento. Quando ci hanno fatto la proposta da... Eccolo lì, borghese. E ci sto pure io. Io sono il terzo del secondo gruppo. Sempre. E' venuto pure a Ceresol e Reale. sul Gran Paradiso a Trovaccio. Stavamo per lì noi, no? Lui, il comandante Carallo, l'ammirato Carallo. E lì il borghese ci fece il discorso di chi voleva andare volontario subito al fronte. E tutti in passo avanti. Qui l'ebitragliatrici è Breta 38. Noi avevamo i 37 invece. Che si inceppavano sempre. Poco addestramento. A noi come siamo arrivati dalla Spezia, ma solo dopo 15 giorni già stavo ansio. Solo sparare. a me avevano messo la Breta 37. C'è la mormitra, pistola e bomba a mano. Basta. Quelli c'erano tutto. Prima il Barbarico, quei parecaturisti della Nembo. Poi noi siamo arrivati dopo. Noi a marzo siamo arrivati. Perché tre sbarchi hanno fatto lì, no? Noi al secondo sbarco ci hanno mandato come rinforzo. A Campo di Carne stavamo. Poi è successo quello che era ritirata. Però mi sono levato la soddisfazione da sparare gli indiani. Noi indiani per le rosse. Indiani proprio dell'India. Comandati da ufficiali inglesi. Lì c'erano solo indiani guidati dagli inglesi. Da ufficiali inglesi. Venivano davanti e ti tagliavano la testa. Mica sparavano. Con i tacchi, con i turbanti. L'elmetto non lo portavano. Però come avevano paura, ti rendevano subito. Però che rendi lì? Quando ti spari addosso ti rendi. Gli indiani mi sembravano, che posso dire, più inquadrati, più... Però erano paurosi pure loro. Quando si rendevano subito. Come vedevano... C'erano tutti indiani, pakistani, tutti mischiati. Noi stavamo... Io non ho mai visto la stazione del campo di carne. Stavamo quasi al 4 chilometri più avanti. Mi ricordo tutti i 3 canneti. C'erano... E c'era la costruzione bianca bassa. E non ci sono mai passato. A ricordarmi... Perché poi mi è morto un amico vicino lì. Monteleone. Era genovese. Poi è successo quello che era ritirata. Scappando. Io mi sono dovuto aggrappare dentro un cararmato tigre. Ognuno cercava. Non c'erano più camion. Non c'era più niente. L'hanno sfondato proprio. Che poi... Tanti si erano subito prigionieri. Perché dicevano ormai è finita. Arrivano a Roma è finita. Invece no. Siamo passati per Roma. A Firenze si sono organizzati. Ci hanno riportato alla Spezia. Che c'era più. Tanti si erano spogliati e ritornati. Quelli romani si sono spogliati e ritornati a casa. Però a tanti la testa gli diceva da continuare. Possibili ora più a Roma. Io mi ricordo una mascotte nostra. Il napoletano era. Ora mi viene in mente il nome. C'era 13 anni. Si è fatto ammazzare dagli americani. Gritando. A Roma i negri no. Aspetta come si chiamava. Ora mi stava sulla punta della lingua. Il ragazzino napoletano coraggioso era. Era mascotte poi. Non doveva combattere lui. Poi il babbarico è stato sciolto a Padova. Ormai 380 morti ci hanno avuto. Il babbarico. Così mi hanno detto. Poi da lì sono passato al battaglione con leoni. E da lì è incominciato i rastrellamenti. Prima in Piemonte. Poi a Gorizia. E a Gorizia invece siamo arrivati. Che già era tutto finito. Già avevano sterminato i bersaglieri Mussolini. Non siamo serviti a niente. Poi siamo tornati a Ivrea. Poi hanno ammazzato il mio comandante Bardelli. non so in che modo hanno ammazzato. Piero Piero. Il comandante partigiano Piero Piero. Si chiamava. Piero Piero. Bardelli era andato lì a parlamentare disarmato. erano i 7 e 8. Per parlamentare. Un ufficiale della decima era scappato con la cassa. E si era messo con i partigiani. E lui era andato per parlamentare. Questo ci hanno detto dopo a noi. Per parlamentare non per la cassa. Ma per riavere questo guardia marina. Hanno subito sparato. Sui gradini della chiesa. O Zegna. L'hanno trovato. E' stato a piagna di tutti. Perché era un bel comandante Bardelli. Gli hanno strippato i tre denti d'oro da Porto. Per terra. Sui gradini della chiesa. Lui portava la caramella. L'hanno spezzata e infilata dentro gli occhi. E due marò della scorta. L'hanno imbrattato pure. Con la merda dell'esame. Insomma. Abbiamo raccolti. Poi non so che fine ha fatto. Chi l'ha preso. I cineri stanno al campo della memoria. Tanti sono scappati. Chi veniva preso dai partigiani. Invece di essere ammazzato. La deriva. Alla piede loro. Capito. Però le botte. che ti davano. Io avevo un colpo. Io invece di farmi prendere dai partigiani. Mi ammazzavo subito. Subito. Già l'idea. Perchè. Perchè. Hanno preso tre ausidiali. E' vero che gli hanno fatto. Le hanno trovato sventrate. Su Piemonte. Sventrate. Proprio aperte. A pancia. Ma coi partigiani. Non c'era l'odio. E' incominciato. E' incominciato con le brigate caribaldine. Che ci hanno cominciato a ammazzare. Andavano in libera uscita. Ne ritornavano due o tre in meno. Si ammazzavano la candeletta. La pistola dietro la testa. Dentro il cinema. Brutti ricordi quelli. Stai sempre qua. La paura c'era. Poi i prigionieri. Noi volevano subito i tedeschi. Eravamo obbligati a passare dai tedeschi. I prigionieri. Sopra Lucca. C'era una croce rossina. E un negro che portava la mano. Dentro invece lo sai che c'era. Coca Cola e sigarette dentro l'ambulanza. Abbiamo fumato le prime sigarette americane. Il primo combattimento dei rastrellamenti. A Canischio in Piemonte. Mi hanno ferito con due schegge. E ci hanno circondato. Eravamo in tre. Tenente Moroni. Dino Moroni. Bellardi e io. Hanno ammazzato solo il tenente. Il proiettile. Ha perforato l'elmetto. Aveva 22 anni. Di Parma era. La decima era autonoma. E brigate nere che obbedivano ai tedeschi. La Muthi. La Guardia Nazionale Repubblicana. Quelli che obbedivano troppo. Con noi. Noi si sparavamo. Addosso. A Portanova. E' morto solo un tedesco. Alla stazione di Torino. E' diventato comandante Cencetti. Cencetti era un buono ufficiale. Un grosso. Lo sai che la statua dell'Olimpico dove l'Arcere. Lo sai di chi è? Cencetti. Come modello. Il fratello dei Cencetti. Cencetti. E' una medaglia d'oro in Russia. E' morto in Russia. Il fratello. Questo l'ho saputo dopo che era la medaglia d'oro. Pure Cencetti. Però era meglio Bardelli. Cencetti era un buono. Poi è successo che il 23 aprile a noi. Il comandante del Colleone ci ha autorizzato ad andare a Milano. Per prendere uno che stava all'ospedale. Uno dei nostri che si era ammalato. E invece è successo il 25 aprile. Hanno cominciato a sparare. Eramo io e Berardi. A Corso Italia ci siamo rifugiati nella caserma della prima brigata nera mobile Barattini. Noi ci siamo resi l'ultima caserma che si era resa a Milano nel 28. Ci hanno cominciato a fucilare. Perché prima ci siamo resi partigiani del partito d'azione. Sono arrivate le brigate caribaldine. A momenti ammazzavano pure quelli che hanno cominciato a fucilazione. Ci hanno lasciato in piedi in tre. Io, Berardi e una mascotte delle brigate nere. C'era una donna e un finto prete. Hanno visto che eramo giovani, non lo so. Però le botte che ci hanno dato. Ci hanno avuto pietà. Se capitammo con altro protone di esecuzione. E l'hanno fatti. Questa ci ha avuto un po' di pietà. Perché poi c'era questo ragazzino di 15, 13, 14 anni che faceva la mascotte. E io quello che sono rimasto male. Che Berardi mi ha detto che quando hanno sparato io ho bestemmiato. molto cavolo. Io ho stato quattro giorni senza parlare. La paura dentro San Vittorio. Botte, schiaffi, calci. Ci hanno fatto camminare per Milano con le mani in testa. Per quattro giorni. Io l'ho visto Mussolini morti. Ci hanno portato con le mani in testa tutto il gruppo. Vedi il vostro capo che fine ha fatto. Io ho riconosciuto il vecchio ufficiale Osvaldo Valenti per terra. Il 28. Il 28 ci hanno fatto camminare per tutto a Milano con le mani in testa. I calci, i sputi. Io stavo in mutande. A me mi hanno spogliato tutto. La gente tutta... Qualche d'uno della forza ci faceva Esci, esci dal gruppo. Ci voleva salvare. Come facevi? C'erano tutti quei mitra. Tutti italiani. E gli americani dopo. Quei camionetti si entravano e fotografavano tutti. Perché Milano era tutta rossa. Tutte bandiere rosse. D'americani e d'italiani. Non c'era niente. C'erano i morti dentro sul fiume. Il naviglio. I morti che galleggiavano e buttavano dentro. E spalavano e buttavano dentro. Le torne. Ma il veneno delle torne. A me mi si è messa una dietro. Ci aveva avuto una quarantina d'anni. Con una conculina mi dava le botte in testa. Io non potevo levare le mani. Perché il partitale che ti sparava subito. Ma lì imbambito. Con una conculina delle ferde. Quelle metalliche. Poi mutande. Gli sputi. Le pisciate addosso. Certo. Io ho visto uno pisciare sulla faccia di Mussolini. E' morto. E un partigiano gli ha dato uno schiaffone. Chissà. Se vede che c'era un po' di coscienza. E ci hanno portato a San Vittore. Il primo maggio. E abbiamo fatto questi undici mesi di galera. Sei in cella. Litigavamo. Perché uno c'era il buiolo. Chi doveva fare il bisogno prima e dopo. Ne parlamo per niente. E' stata un'esperienza. Brutta è stata. Io con il dieciottesimo anno l'ho compiuto dentro il carcere. Dentro San Vittore. Pure a San Vittore. Io ho visto Porta Via. Perché noi avevamo sfondato tutte le celle. Però non potevamo uscire nel braccio. Vedi Porta Via. Bufarini Guidi. Che l'hanno portata vicino. Già era morto per me. Perché lo tracinavano in quattro. Per me già era morto. Era ministro dell'interno. Poi ci ha dato la ministria Togliatti. Che era ministro delle grazie e giustizia. Sono tornato a casa. A Roma. Con il foglio di via. E non si trovava a lavoro. Ho trovato tutta la famiglia a posto però. A me nel 48 poi. Mi hanno rifatto fare soldato. Perché l'età era da fare militare. Prima ci hanno detto. Che chi aveva appartenuto dalla Repubblica. E allora. Non era degno. Di appartenere alla Repubblica. Quando hanno ricevuto la cartolina. Ci siamo andati al distretto. Lì. Vicino Santa Maria Maggiore. Se voi non siete degni. Di appartenere alla nuova Repubblica. Vabbè. Meno male. Invece ci hanno. Poi sono abbonati i carabinieri. Ci hanno portato a fare soldato. Questo nel 48. E ci hanno mandato. A Casale Monferrato. E mi hanno messo. Nella divisione Cremona. Che aveva combattuto. Contro le truppe italiane. Allora. Ci fecero. Fai tiri. C'era il capitano. Mani Mileno. Si chiamava. Dice bravi. Spalate bene. Questi dei cacciatori. No. No. Noi li abbiamo fatto. Si è incassato. Ha detto. Lo sapete dove siete voi adesso? No. Nell'unica divisione. Che ha combattuto contro di voi. Mai viste. Gli ho detto. Gli belardi li amo. Però ci hanno congettati due mesi prima della fine della ferma. L'unico che si è fidato di me è stato Cecchi Cori. Il grande Mario Cecchi Cori. Che ha detto. Mi fiso più di te che di quelli che stavano con me. Perché lui era capopartigiano in Toscana. Mario Cecchi Cori. Così mi ha detto. E lì ho cominciato la vita del cinema. Come produzione. Prima segretario. Poi ispettore. Poi direttore. Sono entrato. Con Cecchi Cori. Nel 55-56. Cosa fa. Sorpasso. Poi Brancaleoni. Poi la Califfa. I primi tempi. Cinecità. E' brutta. E' tutti rossi. Ecco il fascista. Quando entravo. Però. Poi piano piano. Si è calmato pure lì tutto. Pianella e la Cagliate. Aderito. La moglie che stava con noi. Era la posidiaria. La Mondaini. Sanna era. Ma era la posidiaria nostra. Dalla decima. Appartene le fiamme bianche. I giovani. Capito. Paolo Stoppa. Era dei nostri. Era dalla decima. Lo Sbaldo Valenti. Era ferita. E poi ci ho lavorato pure. E' incontrato. La Scalera Film. Quando eravamo ancora civili. Abitava a Piazza Dusco. La Scalera. Stava a Piazza Zama. C'eravano i comparsi. I bambini. I cose. Dario fa. Mamma mia. Facemmo un film a Bologna. E poi non è mai uscito. C'era lui e la moglie. Al ristorante. Una sera sempre. Mi guardava. E diceva. Ma tu sei fascista. Ma perché te che eri? E' successa la discussione. Al momento si trovava i nani. Con la moglie vicina. Si è insultato il mio marito. Ma credo altro. Come da fascista è diventato comunista. E poi mi sono messo. All'84 in pensione. Ho continuato a lavorare a dieci anni al nero. Poi i sindacati mi hanno detto. Mussolini. Non me lo toccate. Io penso a quello che ha detto l'ultimo discorso. La socializzazione. Nessuno ne parla. Pure. Io non sono stato mai iscritto al movimento sociale. Alleanza. Mai con nessun partito. Mi sono mai iscritto. Al Mirante ci fece la proposta di diventare onorevoli. Abbiamo rifiutato tutti qui. Io, Berardi. Malvesti. Tutti. Con l'almirante non sappiamo. Era stato ministro pure nostro. C'erano divergenze politiche. Io credo. 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 Qui non ne parlano. Tutti i partiti di destra non parlano mai di socializzazione. Quello che ha detto Mussolini. L'ultimo discorso. Ha obbedito troppo al pazzo Hitler. Ha obbedito troppo. Era diventato succub per me. L'unica colpa che posso fare è quella. Che ha creduto nel pazzo. Perché quello per me era proprio pazzo. Proprio. Io ho l'odio più verso il nazismo che verso i comunisti. Non so perché. Ho proprio l'odio. Io su dei partiti comunisti ammirato solo Berlinguer. Berlinguer è stato un grande pomo. È stato Gagliardo. Cosa? Come si chiama? Quello piccolo. Il presidente. Pertini. Mamma mia bella. Mamma mia. Per carità. No. L'unico che potevo dire era Berlinguer. Che poi Berlinguer. Ammiranti andò al funerale di Berlinguer. Erano quello fascista e quello comunista. Fascista. Ammiranti. A me cos'è come mi chiamano? Il fascista antinazista. Perché non posso. Noi litigavamo con le SS. Non si potremmo vedere. Ci sputavano addosso le SS. Quando camminavamo insieme. Puh. Io il pazzo non lo potevo vedere. Quando ci portarono alla Rio d'Italia. Alla stazione di Ostiense. I Balilla. I figli da Lupa. I piccoli italiani. Giamme. Giamme. Come lo vedi. Giamme stava qui. Non so perché. E poi si è dimostrato pazzo proprio. Ma noi del campo di concentramento non sapremmo niente. Giamme. Ce l'hanno fatto vedere. Per la prima volta dentro il carcere. A San Vittorio. Hanno messo un telone. E ci hanno fatto vedere. Se. Se. Ho detto. Ma possibile che facevano queste cose. Noi. Con la SS. Siamo sparati a Porta Nuova a Torino. Perché. C'era un capitano. Padre tedesco e madre italiana. Ci spusava addosso. E ci diceva. Se non c'eravamo noi. Voi non esistavate. Se non c'era. Il nazismo. C'era Berardi. Che voleva sparare su. Mai. Mai. Con le tru. Con la Verma. Se lo portavamo te. Perché erano quasi tutti austriaci. E non vedono l'ora che finiva quella. Mi ricordo. C'erano gente che. Diceva. Parlavano italiano bene. Però. Io. A me ancora. Mi chiamano. Il fascista. Antinazista. Dice. Possibile. Il fascista. Antinazista. La dottrina nazista. L'SS italiana. Non la portavamo vedere. Perché. Se senti. La fede. La cosa. Ma. C'è. La divisa italiana. Devi ammettere. L'SS. Non la portavamo vedere. Nemmeno con loro. Non c'era motivo. Da mettersi con. Quella. La divisa tedesca. C'erano. Noi eravamo tanti battaglioni. Nella decima. Il più famoso. Era. Prima. Barbarico. Con leoni. Luvo. Fulmine. Balanga. E sagittario di Fumai. Fumai. Sempre a Gorizia. Contro Islavia. Grande. Quello è stato grande. Davvero. Il comandante nostro. Il collone. Si chiamava. Boriello. Il collone. Era. Aggregato al lupo. Lupo. Va. Si accende. La battaglia. Si infiamma. La mitraglia. Forse. Si morirà. Una rosa. Sopra il petto. Un fior. Sul samurai. Forse. Si tornerà. Bimba. Radiosa in volto. Noi siamo della lupo. Noi siamo della decima. I baldi marinai. Non essere gelosa. Se un'altra donna amiamo. Abbiamo l'Italia nostra. Che non potrà morire. Duce. Basta. E' finita la cosa. Quella me la ricordo sempre. C'era breve. Grazie a tutti.